Il viso è composto di ossa, grasso, muscolo, pelle e con il passare degli anni questa imbottitura inizia pian pianino a perdere volume e a scivolare verso il basso. Ecco perché diventa fondamentale allenare i muscoli facciali se vogliamo mantenere il volume del viso e prevenire e contrastare la forza di gravità. Le creme e i massaggi servono più ad idratare e a distendere la pelle ma se noi vogliamo ridare volume e sollevare i muscoli solo la ginnastica può farlo. Se non mi conosci io sono Petra, sono un'istruttrice di yoga facciale e fondatrice di viso in forma e fino a sabato 12 marzo ho riservato una super offerta per te. Se vuoi apprendere gli esercizi più efficaci per tonificare i tuoi muscoli facciali puoi seguire il corso online in video quindi senza limiti di tempo e di spazio dove ti insegno passo passo ogni esercizio di yoga facciale per ogni parte del viso oppure puoi seguire il corso dal vivo su zoom dove in cinque incontri di un'ora e mezza impariamo gli esercizi di yoga facciale sempre passo passo. fino a sabato 12 marzo incluso entrambi i corsi hanno il 20 per cento di sconto ma non solo acquistando uno dei corsi donerai il 10 per cento alla croce rossa italiana che sta raccogliendo i fondi per le emergenze in ucraina quindi acquistando uno dei due corsi non solo avrai donato benessere al tuo viso ma avrai fatto anche un bel gesto nei confronti di tutti questi profughi che in questo momento hanno veramente bisogno anche del nostro aiuto spero di vederti in uno dei miei corsi ciao